Ci siamo già incontrati a qualche evento precedente oppure no? Ok, mi introduco rapidamente, sono Luca Lamesa, lavoravo nel marketing di Procter & Gamble e Unilever, due classiche multinazionali nel mondo del largo consumo e ormai dieci anni fa ho capito che i social media avrebbero cambiato il modo in cui si fa comunicazione e anche il modo in cui le agenzie di comunicazione lavorano e ho deciso dunque di licenziarmi per creare una piccola società che gestisce i social media di poche aziende medio-grandi. Qualcuno di voi già sa se vuole lavorare nel mondo dei social media per alzata di mano? Qualcuno di più a piacere quel mondo? Ok. Qualcuno invece che vorrebbe fare l'imprenditore? Qualcuno che vorrebbe aprire qualcosa di suo? Perfetto, Gabriele sei sulla buona strada? Perfetto. Ok, all'inizio ho iniziato comprendendo che i social media non danno lo stesso ritorno a tutti i clienti in tutti i mercati, quindi non sono la bacchetta magica con la quale risolvere i problemi di qualunque realtà che vi possa chiamare per creare più una consulenza. Anzi, quando ho iniziato a lavorare in Procter ero convinto che il marketing fosse creatività, che io sarei andato in azienda a inventare la campagna più creativa, questa avrebbe portato maggiori vendite. In realtà no, ho subito capito che la maggior parte dei brand manager, responsabili dei vari brand di Procter, erano ingegneri, persone che passavano la maggior parte del tempo su dei file Excel con i dati di vendita, i dati che si definiscono di sell-in e di sell-out, quanto Procter vende a, diciamo, S lunga, Coppa e Conad e quanto poi noi andiamo a comprare nei vari store. Quindi avevo capito che il marketing, alla fine, ha una fortissima connotazione numerica. Bisogna sapere interpretare i dati per capire quale strategia funziona oppure no. Quindi c'è una parte di creatività, ma poi dobbiamo anche essere bravi ad analizzare cosa sta funzionando. Una frase che dico spesso è che non c'è niente di migliorabile se non è misurabile. Quindi dovete, secondo me, sempre più comprendere come l'approccio analitico male non faccia. Da un punto di vista, invece, di intuizione, prima ancora di sporcarmi le mani sui social media, avevo intuito che i social media avrebbero dato un maggior ritorno in alcuni mercati specifici, in particolare nel mondo dello sport, nel mondo della moda, con le celebrities, personaggi pubblici, e anche in parte nel mondo del food, del cibo. Perché? Perché quando in Unidever pianificavamo le campagne pubblicitarie con il team media, quando andavamo in televisione mandando in onda un particolare spot, la logica era verticale, dall'alto verso il basso. Io mando lo spot in onda e tu che sei a casa te lo guardi sul divano. Quando io mi guardo uno spot in tv, anche se mi piace, è lo spot che va in onda durante il Super Bowl, quindi il massimo della creatività, se mi piace al massimo lo racconto a Giulia, che ve la presento virtualmente, la mia futura moglie non può essere qua con noi, però al massimo lo posso raccontare a lei. Se mi piacesse quel video, io non posso con un click dire a tutti i miei amici, magari appassionati di Super Bowl, guardatelo. Quindi la televisione ragiona con una logica verticale dall'alto verso il basso. I social media esprimono il loro vero potenziale, se riusciamo ad andare oltre questa logica, io pubblico, tu guardi, ma riusciamo a abilitare chi guarda a condividere con gli amici. Quindi si definisce earned media, media guadagnato, tutta quella visibilità extra che io riesco a ottenere senza pagare. Quindi se oggi noi tutti insieme creiamo un contenuto fantastico e lo mettiamo in rete e tanti altri studenti lo condividono, tutta la visibilità extra che abbiamo ottenuto è earned media. E quindi tornando un pochino a questa slide, ho capito che era molto più facile ottenere earned media, visibilità gratuita nel mondo dello sport, perché ci sono i veri fanatici, i veri fan, quelli che quando è la propria squadra del cuore pubblica un clip, anche solo che si stanno allenando e fanno magari un gioco, un tunnel o uno scherzo, lo vogliono condividere con gli amici, oppure taggano l'amico sotto il post, anche quello per mettere in generale extra visibilità. Stessa cosa nel mondo della moda. Gli appassionati di moda condividono in continuazione i contenuti magari dei loro stilisti preferiti, per non parlare dei personaggi pubblici. Quindi non so se voi avete un attore preferito, un cantante preferito o chiunque esso sia, tendiamo non solo a vedere i loro contenuti, ma magari a interagire con i contenuti, dando i vari like, commenti o condivisioni. Quindi abbiamo iniziato lanciando in tutto il mondo, solo la parte di social media, del campionato mondiale Superbike, che sono le moto. Qualche appassionato di moto in sala? Ok, grande. Dopo i risultati del campionato mondiale Superbike, che tra l'altro potete trovare pubblici sul mio LinkedIn, quindi fatela questa cosa. Un manager della Superbike ha scritto pubblicamente sul mio LinkedIn come abbiamo lavorato. Questo vi servirà qualunque cosa voi farete. I risultati della Superbike ci hanno permesso di farci conoscere da Pirelli, che abbiamo lanciato in tutto il mondo, anche in questo caso solo la parte moto. L'urano budget molto grandi anche nella Formula 1, noi abbiamo fatto sempre solo i social della moto. E poi sono arrivati tanti altri clienti, sono arrivati gli americani a Roma, quindi siamo andati a Trigoria per diverse stagioni con Shergool Arshad, che era il capo del digital, e tanti altri progetti. Devo dire che le cose più belle di questi anni non sono mai nati dai brief dei clienti, ma dalla voglia di fare le teste, di sperimentare. Quindi mi riferisco in particolare a un'esperienza in America. Era successo che avessi sentito indirettamente una frase di un attore, Ashton Kutcher, Lexi Demi Moore. E lui in 2013 disse che gli attori a parità di bravura iniziano a essere presi per i film in base al seguito che hanno sui social media. Vi parlo di sei anni fa. Cioè se siamo bravi uguali a recitare, ma io ho meno di follower, prenderanno me perché sono un piccolo media. Faccio una foto del copione che sto leggendo e faccio sapere a chi mi segue che esisterà magari un film su Steve Jobs. Prendo questa frase dall'America, la porto in Italia, nel mio mondo, nel mondo in particolare dello sport, e quell'anno dovevamo gestire con la Federazione Italiana Pallavolo e Mondiale di Pallavolo, che era in Italia. E mi chiedo, ma perché nessuno in Italia sta facendo diventare gli atleti dei media. Esistono delle agenzie bravissime a commercializzare gli atleti. Quindi magari Procter & Gamble, Pater & Shoulders, chiede un atleta e gli dicono l'atleta migliore per te è magari Gigi Buffon. Ok, perfetto. L'hanno commercializzato, ma non hanno sviluppato la presenza social di Buffon per vendere una cifra più alta. O almeno questo non succedeva in quegli anni. Quindi parliamo con la DAO, che gestisce molti atleti, gli proponiamo di fare un test con la Piccinini durante i mondiali. Quel test diventa la campagna più virale di tutta Twitter in Italia a ottobre 2014, con dieci volte il numero di tweet dell'account della Serie A, quindi una cosa sopra ogni aspettativa, però sintetizzata al massimo solo per dire che un test non richiesto ci ha permesso poi di fare un caso studio che ci ha accreditato agli occhi di altri clienti, come il CONI. Abbiamo avuto l'opportunità di collaborare alla gestione social delle Olimpiadi di Rio nel 2016, bellissime, spiagge bianche, sole caldo, eccetera. L'anno scorso è stato un po' più complicato perché abbiamo fatto gli Olimpiadi in Corea a un mese, un mese a meno 24 gradi, è stato un po' più sfidante, però quello che vorrei dirvi è cercate di studiare e diventare più bravi in un ambiente specifico, ma mantenete viva questa voglia di sperimentare, perché io non sarei mai arrivato su alcuni di questi tavoli che a me hanno dato moltissimi stimoli, se mi fossi limitato a eseguire i brief dei clienti. I brief dei clienti sono quando un cliente ti chiede di fare una serie di attività. Bisogna sempre provare a innovare, le cose più belle sono nate da test non richiesti, soprattutto da stimoli presi all'esterno. Sono andato in America, ho sentito una frase dell'attore e l'ho portata in Italia. Ora non c'è neanche più bisogno di andare così tanto all'estero, in realtà ce ne sarebbe bisogno, ma non è fondamentale, ma dobbiamo avere gli occhi verso l'esterno. Siete la generazione, in realtà, io purtroppo non mi posso includere, proprio fortunata, perdonatemi, non voglio dire una cosa e mi tirate i pomodori, però intendo avete accesso a qualunque tipologia di informazione. Io ho studiato sulle enciclopedie veramente quelle cartacee, mentre oggi si dice che è la prima generazione che qualunque contenuto vuole scoprire lo ha a disposizione. L'unico limite che avete è la lingua. L'unica cosa che non vi fa capire cosa c'è in rete di gratuito è il fatto che non conoscete quella lingua. Sono tornato da sei giorni da un'esperienza in Cina, sono andato negli uffici di TikTok, ho parlato con dei manager di Alibaba, il giorno del fuori tutto. Fantastico, bellissimo, ma tra me e loro c'erano interprete, perché io non parlo mandarino. E quindi l'unico vero limite che abbiamo è questo. Ci sono anche tante metodologie che magari vi accenno per far sì che ogni giorno voi diventate più bravi ad imparare altre cose. Per esempio, adesso vi costringerò ad alzare la mano, quanti di voi hanno Netflix? Ok, fantastico. Quanti di voi guardano Netflix in inglese? grandi, mazza, fortissimi, controllo poi, troverò il modo per controllare. No, questa cosa è fantastica, io la chiamo la regola del compromesso, cioè regalatevi qualcosa a cui veramente tenete, perché Netflix è piena di contenuti interessanti, ma obbligatevi a fruirne in una modalità leggermente più scomoda, perché non è la stessa cosa guardare un inglese rispetto a quello in italiano, soprattutto se la sera si resta anche, eccetera, non avete il massimo delle forze, però ogni giorno imparerete qualcosa. Io mi ricordo che forse a 13 anni ho fatto un'esperienza brevissima a Dublino, non c'era Netflix, non c'era l'internet che c'è oggi, mi comprai un libro in inglese di una favola per imparare qualcosa, dopo una settimana l'ho buttato via perché era Harry Potter, che per carità è fantastico, ma stavo imparando solo, che ne so, Drago, Bacchetta e cose inutili. Quindi oggi avete la possibilità di imparare anche con tutta una serie di app che vi permettono poi quando vi interessa un tema completamente diverso di avere la competenza linguistica per apprenderlo, però tornando a noi la cosa bella che poi dopo le esperienze nel mondo dello sport hanno incominciato a chiamare anche tantissimi altri brand, scusate, non tantissimi, alcuni, nel mondo della moda, soprattutto quelli che mi interessano i più sono quelli che vivono in questa strada, abbiamo iniziato a collaborare con Fendi, poi con Bulgari e con vari altri e poi hanno cominciato a chiamare un po' di personaggi pubblici. Ora, i personaggi pubblici non sono il mio target, quindi la mia piccola agenzia non ha l'obiettivo di lavorare con loro, però è stato molto bello ricevere una chiamata dal team di Fiorello, poi da quello di Brignano e da altre realtà. Questo vuol dire che c'è una grandissima opportunità nel mercato. Io non faccio commerciale, cioè io non vado in giro a cercare i clienti, i clienti chiamano perché faccio tutta una serie di strategie in rete per far sapere le cose che faccio. Quindi, pure oggi, oggi io non ho un beneficio commerciale ad essere qui con voi, ma magari la maggior parte dei miei studenti poi vengono assunti da società che hanno esigenze di social media. La stessa Fenni, la stessa Bulgari hanno assunto dei miei studenti che a un certo punto mi hanno chiesto chi c'è di bravo da assumere e alla fine quelli che ho seguito nel tempo sono finiti in questa società. Così come, mi ricordo, i miei studenti mi hanno chiamato una volta il professore sono entrato nel team digital del Real Madrid volevo morire però era bellissimo quindi in realtà bisogna trovare il modo per capire cosa ci piace e far capire al mercato che siamo molto bravi a farlo. Quindi non so quanti di voi utilizzano Facebook poi potrei andare su altri social ma utilizzano Facebook con privacy chiusa che se io vado a cercare il vostro nome e cognome non vedo niente. Quanti? Ok, perfetto, abbastanza. Quanti tengono Facebook completamente aperto? Tutto open? Ok. Spero che la verità sia una via di mezzo cioè l'esercizio che in genere faccio in classe il primo giorno di lezione è un gioco che io chiamo indovina chi? Quindi comincio a dire oggi non ho fatto a te per prepararlo però indovinate chi è che nell'ultimo mese ha bevuto tre birre? Cominciate a chiedervi chi è che nell'ultimo mese ha comprato due paia di scarpe rosse o ha promesso che a Black Friday comprerà di tutte e di più? Quindi pian piano vedi una che era appena tornata da un'esperienza in Mozambico chi è che è appena tornata da un'esperienza in Mozambico? Chi è che il 18 ottobre si è trasferita a Roma? E tutti quanti in sedia wow, ok come ha fatto a scoprirlo? Banalissimo ha controllato i loro profili social ora il problema è che dobbiamo capire questi strumenti per fare in modo che siano semplicemente un vantaggio per noi e mai diventarne schiavi e questo è un passaggio delicato io sono un grande appassionato di tecnologia ma passo tanto tempo con gli studenti per insegnare tecniche per veramente crescere senza però purtroppo psicologicamente rimanere agganciate alle piattaforme ora perché credo che la verità non sia nessuno degli estremi Facebook completamente chiuso o completamente aperto perché se è completamente aperto io vedo anche una parte ludica che professionalmente non dovrei vedere quindi vedo le birre vedo le barzellette vedo magari dei video con gli artici che fare con gli amici se però lo fate 100% chiuso io non capisco chi siete considerate che quando farete i colloqui se già non li avete fatti Linkedin è quello che dichiarate Facebook è quello che siete quindi non dare per scontato che controlleranno solo Linkedin controlleranno Linkedin ma soprattutto su profili che devono ancora fare diciamo un po' di esperienza controlleranno Facebook ora incominciate a fare questo esercizio tenete Facebook chiuso come privacy in maniera tale che io non possa vedere le feste che fate ma obbligatevi una volta a settimana a pubblicare un post interessante ma veramente interessante sul mondo nel quale vorreste lavorare qualcuno di voi vuole lavorare che ne so nel mondo della moda ok qualcuno nella finanza qualcuno nello sport ok incominciate a pubblicare questi contenuti quindi cercate una bella analisi per esempio di LVMH che ha appena comprato mi sembra Tiffany l'altro ieri per X billion piuttosto che potreste calcolare in ambito finanziario l'andamente della quotazione di Facebook da quando si è quotata ad oggi piuttosto nello sport potreste raccontare dei casi bellissimi che esistono nello sport che ancora non si sa che esistono nel mercato italiano visto un caso all'estero bellissimo qua non ne parla nessuno ora perché vi studiano questi spunti perché se a un certo punto voi per 50 volte l'anno una volta a settimana avete pubblicato con privacy aperta qualcosa legato al mondo della moda quando qualcuno verrà a controllare il vostro profilo dirà wow questo è un anno che studia moda a livello serio soprattutto se io lo seguo scopro un sacco di cose interessanti quindi i vostri amici capiranno che voi per una passione in attesa che diventi un lavoro vi siete dedicati alla moda quindi sono tecniche che vi consiglio di fare veramente da oggi stesso quindi nel mio piccolo quello che faccio è pubblicare molto spesso le cose che organizzo e quindi poi il telefono squilla quindi qualcuno dice quando voglio fare una serie di social media Gabriele voglio fare una lezione di social media chi chiamo in teoria ha pensato a me ma se io vi chiedessi domattina vi svegliate che avete mal di gola chi chiamate oltre magari non lo so genitore qualche sia pensate a un vostro amico che magari sta studiando medicina o un medico con il quale siete cresciuti se volete se avete un problema alla macchina o al motorino sicuramente chiedete un consiglio magari dovete comprare un televisore o vi si blocca il computer sono sicuro che ciascuno di voi ha un'associazione mentale tra un tema e un amico che è più esperto se doveste chiedere un consiglio a qualcuno in ambito bitcoin avete in mente un nome? ok vuol dire che quella persona per un po' di tempo ha cominciato a pubblicare contenuti sul tema dei bitcoin quindi se voi volete lavorare in un ambito specifico incominciate a pubblicare dei post con privacy aperta su quell'ambito però di qualità alta quindi dovete dedicare del tempo a cercare informazioni rilevanti ok vado avanti possono capitare tantissimi altri progetti il vero problema è che qua eravamo con federal e internazionali e la cosa bella è stata che ci sono dei progetti fantastici che ti danno accesso ad atleti incredibili leggende dello sport però tu hai tre minuti per fare una clip interessante e devi comprendere però il contesto il contesto per me era queste leggende dello sport ogni settimana ogni dieci giorni cambiano città in ogni città fanno un torneo sono vent'anni che gli fanno sempre le solite interviste il tuo più bel ricordo in questa città magari in Italia ti chiedono anche qualcosa legato al cibo qualcosa se pensi di vincere il torneo quello non può che risponderti sì sono qui per vincere quindi i rischi di fare dei contenuti che sui social sono informativi ma non sono virali nessuno li condivide se ti dici cose sempre abbastanza scontate quindi il tema era cerchiamo di capire chi abbiamo di fronte in questo caso fu una mia collega che scoprì che su Twitter Roger Federer utilizzava tantissimo le emoji i simbolini e quindi in questo caso gli abbiamo detto Roger Stissiere fa che domanda avete per me non abbiamo nessuna domanda se vuoi rispondere devi interpretare la domanda che abbiamo ricostruito insieme ai tuoi fan sotto forma di emoji quindi lui si è trovato nel video si vede da molto serio non vi dico annoiato ma devo fare questa cosa a un wow questa non me l'hanno mai chiesta sotto questa forma quindi ottenete l'attenzione del personaggio e creato un video che è leggermente diverso rispetto alla media degli altri video che trovate su di lui Seth Godin ha riassunto questo concetto in un libro che si chiama La mucca viola che vi consiglio di comprare e di leggere la cui sintesi estrema sarebbe quanto è più facile farsi notare da una mucca viola in un mondo di mucche marroni se siamo tutti uguali se i video sono tutti uguali l'utente presterà più attenzione al video più anomalo al video più strano quindi quando vedete questo cartello con l'emoji nel secondo che ci mettete a pensare se scrollare il feed di facebook oppure no direte ok questo è interessante lo guardo oppure qua eravamo con Djokovic il tema era che domande fai a Djokovic che parla sei lingue e quindi il gioco è diventato se vuoi il diploma di italianità devi rispondere a un'intervista nel linguaggio dei segni degli italiani e quindi questa cosa è diventata divertentissima ma perché il personaggio lo permetteva se avessimo fatto un gioco del genere con un Nadal che è super appassionato di tutti i risultati sportivi della storia ma non è uno particolarmente ironico magari sarebbe venuto un video peggiore e poi tante altre tecniche con calciatori e quant'altro vado avanti ora ovviamente vi ho fatto vedere qualche personaggio ma c'è un mondo che potrei raccontarvi anche al di fuori dello sport ho avuto l'opportunità con il coni della federazione di fare degli esperimenti ma adesso vi porto anche su altri tavoli la cosa più importante secondo me che vorrei trasferirvi oggi è una metodologia che potete copiare da subito quello che sto cercando di fare è cercare ogni giorno di diventare più bravo solo su una cosa specifica quindi in ambito social media ho capito quando erano i lever che le agenzie stavano facendo fatica a lavorare bene sui social semplicemente perché i social sono in continua evoluzione quindi è troppo facile iniziare a usarli ma è troppo difficile usarli in maniera avanzata il vero ritorno lo si ha solo se si posiziona nella fascia avanzata e il grande vantaggio che abbiamo noi che lavoriamo in Italia è che essendo in Italia obiettivamente indietro su alcune cose è come se avessimo la macchina del tempo basta guardare i paesi che sono più avanti ed è molto probabile che alcuni di questi trend arriveranno anche da noi quindi dovete però custodire in maniera super gelosa dei minuti per studiare studiare non come fate magari oggi all'università ma studiare veramente quando lavorerete cioè quando lavorerete i ritmi cambieranno completamente e verrete schiacciati da operatività vi verranno chiesto di fare tante cose sotto scadenza in teoria vi chiederanno meno minuti di quelli che vi servono per farli voi dovete allargare le spalle prendervi tempo per fare e imparare cosa state facendo quindi fatevi le domande su perché vi stanno chiedendo di riempire un file Excel e poi cercate tornando a casa di avere ancora la curiosità di guardare qualcosa che sia al di fuori del vostro mondo lavorativo perché magari capirete che potete fare un percorso molto diverso io ho un corso in Lewis nella Summer School dove ai miei studenti gli do un solo compito durante l'intera durata non dura tantissimo il corso devono guardare ogni lezione prima di ogni lezione un video del TED ne guardano uno quando trovano qualcosa di interessante lo riassumono e lo condividono agli amici questo serve semplicemente per accendere delle lampadine perché magari alla vostra età ma anche alla mia molti miei cotani ancora non lo sanno cosa vogliono fare e quindi prendere stimoli in ambiti diversi potrebbe farvi capire che volete andare in una direzione diversa se capite che vi piace che ne so il coding piuttosto criptovalute o la moda poi dovete dedicare del tempo ogni giorno per studiare per diventare più bravi in quell'ambito quindi io personalmente sono ormai dieci anni che dedico due ore al giorno sistematiche allo studio dei social media studio reale quindi mi compro veramente qualsiasi fonte per avere accesso a statistiche a dati casi studio passo molto tempo a vedere chi è più bravo di me in altre parti del mondo però anche se diventassi tra i più bravi a fare social media ovviamente con il mio team che mi dà un grandissimo supporto se non uscisse ogni tanto dall'ufficio il mondo fuori nel frattempo cambia quindi diventati più bravi a fare una cosa che però rischia di essere qualcosa di vecchio e quindi cerco di fare anche due esperienze ogni anno di crescita personale non legata al mio lavoro quindi ogni anno cercate di fare qualcosa di completamente diverso per esempio vi ho accennato che sono appena tornato dalla Cina in Cina sì sono andato nell'ufficio di TikTok che in qualche modo è legata al mio mondo ma ho visto anche delle cose completamente diverse dal mondo delle social media che mi potrebbero far venire voglia di appassionarmi di tutt'altro finita questa sessione con voi oggi questa sera ho organizzato una cena con la general manager europea di Uber e con un'altra persona che è un esperto di futuro della medicina organizzo tantissime di queste scene semplicemente per prendere stimoli per capire se mi interessa più dedicare tempo allo start up al mondo delle start up oppure al mondo della medicina quindi mantenete questa curiosità anche se lo fate poche volte l'anno vi rendete conto dovete diventare i più bravi a cavalcare il prossimo trend in questa maniera avete un grandissimo vantaggio competitivo nel mio caso cosa è stato sono andato nel 2015 alla Singularity University che è nel centro di ricerca della NASA in America loro mappano i problemi del mondo il problema della parte di popolazione che non ha accesso ad acqua non ha accesso al cibo non ha accesso diciamo alla salute quindi a una buona sanità a problemi di sicurezza quindi tutta la parte anche di attacchi informati eccetera o problemi di ambiente questi sono i problemi dell'umanità e loro prendono ragazzi a cui insegnano come utilizzare le tecnologie esponenziali per migliorare la vita di un miliardo di persone in dieci anni questa frase è impossibile da comprendere cioè nessuno di noi può pensare di cambiare la vita di un miliardo di persone in dieci anni e loro ti dicono non a caso siamo dentro una delle serie della NASA perché la NASA quando ha dovuto mandare qualcosa sulla Luna non poteva ragionare con la logica lineare quanti passi faccio per andare sulla Luna no deve cambiare paradigma e quindi ti insegnano come avere un approccio laterale l'anno dopo abbiamo fatto una breve esperienza di un progetto che si chiamava Hive Global Leaders Program ospitato presso Harvard non era un corso ufficiale di Harvard e poi tanti altri per esempio quest'anno torneremo in aprile a maggio con un altro torneremo a maggio ad Harvard con un altro master e tornerò in Cina anche ad aprile queste cose mi sto obbligando a farle con tutti i costi e il tempo necessario ma perché poi quando torno direi vedo cose cioè mi vengono stimoli molto maggiori rispetto ai miei coetanei che sono chiusi là a fare l'ennesimo post per un cliente giusto qualche spunto quando siamo arrivati alla Singularity ci ha accolto questo robottino che ti dice guarda ciascun tavolo rappresenta uno dei problemi del mondo le chiamano le grandi sfide dell'umanità si è lì da un tavolo e capisci come migliorare la vita di un miliardo di persone in dieci anni dieci alla nona significa un miliardo di persone ovviamente la location è incredibile questo centro di ricerca della NASA e poi da lì ho cercato in continuazione quando non ero più a Singularity che ero l'anno dopo a Cincinnati di frequentare persone che potessero darmi contenuti sapete chi è lui? lo avete riconosciuto? Gary grande Gary V Gary Vaynerchuk è uno diciamo di quelli più spinti a fare social media a un'agenzia particolarmente grossa è uno di quelli che ha investito in tempi non sospetti in Facebook mi sembra in Uber in Snapchat ed è veramente un personaggio che ogni volta rilascia contenuti gratuiti in rete molto interessanti e qua eravamo con Procter & Gamble alumni a Cincinnati lui era il main speaker abbiamo passato questa giornata insieme a prendere stimoli così come il mese scorso abbiamo fatto una giornata con Randy Zuckerberg la sorella di Mark Zuckerberg che per dieci anni lei ha gestito il marketing di Facebook eppure con lei abbiamo imparato tantissime cose ora è evidente che ciò che vi dico sembra inarrivabile ma se non avete accesso a queste persone comprate i loro libri iscrivetevi al loro podcast guardate le loro dirette cioè lo stesso Mark Zuckerberg fa regolarmente delle dirette in cui racconta la visione di Facebook quanti di voi hanno visto quelle dirette talvolta non riesco a vedere neanche io per cui dubbio che lo abbiate diciamo visti voi quindi cercate di ritagliarvi del tempo per seguire questi personaggi weekend scorso eravamo in Lewis con il professor Kotler che forse avete sentito chi di voi fa marketing lui diciamo è il padre del marketing moderno 60% degli studenti che nel mondo ha studiato marketing l'ha fatto su un suo libro e abbiamo fatto questo evento incredibile in cui abbiamo parlato proprio anche del futuro le social media e lui invece è un ex hacker incredibile Moran Cerf e poi è diventato un neuroscienziato ora consigliere dell'innovazione alla Casa Bianca che ci ha fatto vedere tutta una serie di esperimenti di neuroscienza incredibili una ragazza gli ha detto parlami di tua mamma però gliel'ha chiesto mentre lei doveva tenere in mano una bibita calda caffè caldo quello che vuoi e lei diceva no mia mamma era così accogliente protettiva mi faceva sempre sentire bene a un altro ragazzo ha detto parli di tua mamma per favore tieni questa bibita in mano bibita ghiacciata e quindi lei ha tirato fuori aneddoli della mamma invece più freddi più distaccati perché lui ci raccontava che ciascuno di noi ha ricordi positivi e negativi ti posso stimolare per tirar fuori quelli che mi interessano più perché vi ho fatto questo esempio perché io non capisco niente di quel mondo ma aver passato una giornata con lui mi ha acceso una lampadina e io ho detto mi impegnerò nel prossimo anno a approfondire queste tematiche non posso non sapere se mi occupo di marketing quindi cercate ogni tanto magari anche di frequentare eventi su Roma o in streaming che non abbiano niente a che fare col vostro mondo e qua veniamo alla Cina questo ByteDance è la società che diciamo ha TikTok che ha comprato Musical.ly che adesso si chiama TikTok e purtroppo non posso raccontare troppo di quello che ci siamo detti per motivi di riservatezza sono riuscito a portare un amico che è Marcello Ascani che è uno youtuber abbastanza seguito tra l'altro anche sul vostro target erano insieme a Shanghai è stata una visita interessante tra l'altro da notare che l'ingresso nell'ufficio era tramite riconoscimento facciale pure questa cosa non è banale potrei aprire tante parentesi e vi faccio vedere anche una serie di altri stimoli sulla Cina e poi vado su dei casi di social media però rispetto a tanti altri attività che abbiamo fatto anche con Gabriele con Tutore trovate anche un mio video a breve dentro Tutore in cui racconto delle cose di social media ma oggi ho pensato di mettere qualche slide in questa prima parte molto più fresche che nessun altro ha ancora visto qua eravamo con un manager di Alibaba lui ha fatto 16 anni in Alibaba con Jack Ma e abbiamo passato l'intera giornata del single day il giorno degli sconti di Alibaba con lui perché si era licenziato ora fa ovviamente il filantropo investe in arte e abbiamo fatto quattro ore insieme di cerimonia del tè perché lì prima di dirsi qualcosa di confidenziale devi partire veramente da a Roma si dice una caro amico cioè devi prendere molto lentamente quindi per quattro ore abbiamo bevuto questo tè e lui ci ha raccontato piano piano una serie di esperienze che ha fatto perché vi ho strappato un sorriso con questo aneddolo perché dobbiamo interrogarci anche sulle differenti culture cioè quando Dolce Gabbana decide di fare quello che ha fatto in Cina e ha perso non so se forse sparo 30% del fatturato sul mondo cinese evidentemente non si è interrogato su un tema culturale io non sono nessuno per criticare Dolce Gabbana però mi ha colpito quando ero lì andare a vedere come hanno una cultura diversa e questo purtroppo non te ne rendi conto se non ti avvicini a quei mondi questo era il santino che utilizzava lì tra l'altro tornando ho fatto una foto in aeroporto io mi interrogo sempre sul ruolo che deve avere la tecnologia io spero che la tecnologia sia sempre al nostro vantaggio e mai come dissi prima diventare noi schiavi e quindi è molto figo perché si dice che tanti di noi perderanno lavoro perché molti lavori automatizzati verranno dati alle macchine mentre in realtà se io vado a vedere c'era questo robot che semplicemente era a scarico e quindi toccava a lei lavorare e dare le informazioni quindi mi sono chiesto ma chi vincerà questa battaglia la vinceranno i computer o la vinceremo noi la verità è un terreno di mezzo sicuramente noi dovremo in continuazione cambiare competenze quindi io sono cresciuto con i miei genitori che avevano determinate competenze ed erano convinti che avrebbero fatto quel lavoro per tutta la vita oggi sapere che non è così i ragazzi che stanno nell'elementare oggi faranno il 60% di loro faranno lavori che oggi non esistono queste sono frasi che si dicono spesso fonti ufficiali insomma che trovate in rete e la cosa che più mi ha colpito della Cina che è anche molto legata ai social network è che io non ho mai usati i contanti in tutto il viaggio non li ho mai usati perché se io volevo dare un piccolo contributo ad un artista di strada potevo usare Alipay che è questo QR code blu o potevo usare WeChat in realtà in questo caso no perché non ho un conto cinese però potevo inquadrare il QR code scegliere l'import e lui gli arrivavano in teoria c'è anche una piccola voce che si sente dalla cassa che ti dice che hai appena ricevuto questo import da questa persona oppure questa parte è un po' affascinante addirittura la beneficenza la fanno così qua ero con questa signora sulla sedia a rotelle tra l'altro molto allegra ho coperto il volto ma lei era molto allegra e i soldi gli ridai col QR code quindi è evidente ve lo dico perché magari queste cose in Italia non ce le stiamo ancora raccontando mentre una settimana fa ho vissuto questa esperienza come se fossi nel futuro bisogna mantenere la lucidità di capire però se ci piace questo futuro sicuramente non si può tornare indietro cioè io non posso pensare che tra 50 anni noi continueremo ad andare in giro con le monetine per mangiare lo snack dentro la macchinetta ma mi preoccupa che sanno esattamente come ho speso ogni singolo euro che avevo cioè se io oggi volessi dire ad Alipay per favore cancella la mia cronostoria io non lo so se lo fanno quindi da una parte c'è un miglior servizio ma dall'altro c'è un tema di transazione dei dati l'evento che abbiamo fatto con questo manager di Alibaba abbiamo fatto dentro una serra perché dentro una serra vediamo se qualcuno indovina per capire anche se vi arriva qualche notizia sulla Cina abbiamo fatto dentro la serra perché c'è un enorme problema di inquinamento essendoci veramente un enorme problema di inquinamento ci sono gli hotel con l'aria cioè tu compri l'hotel prendi quell'hotel perché ha il sistema di depurazione dell'aria e loro te lo scrivono da noi si dorme meglio perché l'aria è depurata questa cosa mi ha sconvolto come per dire negli altri hotel no cioè l'aria normale che respiri è veramente inquinata oppure lui che ovviamente è una persona di particolare successo si è proprio costruito una serra dentro la quale riceva le persone ora non voglio darvi un'idea troppo negativa però mi hanno fatto riflettere queste cose in questo caso eravamo alla Torre Eiffel ma sotto la Torre Eiffel c'era un laghetto dove tu potevi rotolarti dentro questi tubi di aria quindi ti creano delle esperienze oppure a un certo punto ero miracolosamente a Roma tra piazza Rispang e piazza Barberini solo che con me c'erano degli influencer cinesi che hanno numeri che noi neanche ci immaginiamo perché avendo un miliardo e 400 milioni di persone solo in Cina essendo tutti sui loro social network che sono tutti su WeChat semplicemente perché devono poi poter transare poi allo stesso tempo seguono questi influencer e un metro dopo mi sono trovato in un parco dove potevo pattinare per non dire che poi potevi anche fare snowboard e quant'altro a fianco alla Torre Eiffel quindi hanno ricostruito tutto questo ambiente questi erano degli influencer locali questi in realtà un gruppo tipo i Backstreet Boys che c'erano una volta in Italia perché era l'Asia Musical Festival e poi questa cosa strana che vedete Roma con dietro la Torre Eiffel però ti creano veramente l'esperienza qua ho inquadrato il QR code al Cairo ed ero su un cammello e dopo un minuto ero alla Niagara Falls in Canada a me questa cosa ha colpito perché noi diamo per scontato che ci siamo cresciuti e ci hanno insegnato che la metà del patrimonio artistico italiano è in Italia ok quindi necessariamente le persone vengono qua a vederlo non funziona così l'Italia non è tra le mete più visitate al mondo semplicemente perché non ha dei servizi per ricevere i turisti rendendogli l'esperienza ancora migliore là è tutto finto ma è fico quindi bisogna un attimo stare attenti l'altra cosa e poi vado sul mondo delle social media però l'altra cosa che mi ha colpito è che non contiamo quasi un cacchio cioè no nel senso noi siamo 60 milioni loro sono 1 miliarde e 400 milioni se loro decidono di smettere di comprare i nostri prodotti io ho alcuni clienti che fatturano soprattutto nella moda 55% in Cina quindi immaginare se adesso qualcuno decide che non comprano più le nostre cose veramente loro possono fare a meno di noi e noi no dico cose che penso ma che non ho studiato cioè non sono esperto di rapporti internazionali però andare lì mi ha acceso un po' a queste lampadine poi qua eravamo in India quindi ti hanno fatto provare come gli indiani usano il tiro con l'arco ci siamo finiti con delle meduse a un certo punto ti ritrovi con le meduse e poi ti dico vabbè non fermarti alle meduse che fai non te la compri ti vendono una piccola medusa piccolissima utilizzando sempre WeChat quindi è proprio un'altra cultura e così come siamo finiti dentro un grande supermercato di Alibaba sarebbe il nostro S lunga però leggermente diverso la maggior parte delle persone hanno una felpa blu quindi non sono clienti sono i nostri rider quelli che tu gli dici entro mezz'ora voglio il melone e lo voglio tagliato e loro te lo prendono te lo tagliano e te lo portano entro mezz'ora se stai in 5 km gratis ovviamente la cosa che mi ha sconvolto l'ho trovato sul mio Instagram anche questa è una tecnica per farvi vedere il mio Instagram c'è un video di questo ragazzo che prende il pesce ma lo prende veramente cioè lo prende mentre è nella vasca lo prende corretino lo butta in una busta di plastica che il pesce si muove e arriva a casa che praticamente è morto un minuto prima quindi hanno questa mania del fresco che però ti fa interrogare anche su tutta una serie di cose culturali noi pure il pesce lo uccidiamo ma non lo vediamo mentre lo uccidiamo per me gli hamburger quando ero piccolo il pollo se mi dicevano che nasceva sugli alberi io ci credevo perché mi arrivava cucinato mentre lì ti fanno vedere invece proprio una realtà un po' diversa pure per le tartarughe tu vuoi una zuppa di tartaruga vai sull'app e ti prendono una tartaruga e te la portano a casa l'unica cosa ti dicono occhio perché ti potrebbe mordere perché è viva a me queste cose mi hanno abbastanza sconvolto e così come questo era un negozio per bambini per tagliarsi i capelli e c'è tutta la parte di intrattenimento che potete immaginare ok chiudo questa parte cinese in cui però torno sul tema delle esperienze ci hanno fatto vedere tantissime cose esperienziali qua ero su un paracadute tranquillamente mi hanno messo un visore stavo volando qua ero una navicella spaziale ho fatto l'allunaggio sulla luna wow fichissimo c'è solo un problema nella ricostruzione la bandiera messa sulla luna è cinese no è in dettaglio però qua ogni giorno ci sta qualche decina di migliaia di persone che lo vede e vede il cinese che mette la bandiera quindi pure le altre domande ok chiudo qui vado su un po' di social media che è il motivo per cui siamo qui ma ne ho approfittato per darvi un po' di spunti e avete un amico malato per un particolare atleta voi siete malati per gli atleti lo so però l'ho presa larga ok qua c'è un ragazzo che è malato per Gigi Buffon in pratica si è tatuato il volto di Gigi Buffon e lo hanno contattato per dire guarda stiamo per fare un documentario sul mondo dei tatuaggi ti va a ripartecipare? ah figo vi faccio vedere il mio ultimo tatuaggio ok vieni va era tutto finto non era un documentario sul mondo dei tatuaggi ma c'era una persona che si è tatuata il suo volto quindi il volto del fan e questa persona era Buffon quindi hanno fatto incontrare il tifoso con la superstar la superstar si è tatuata la sua faccia sul braccio ora secondo voi qual è un brand che può essere coerente con questa storia è difficile a novinare però è Mastercard perché Mastercard vi dice alcune cose potete comprarle per tutto il resto ci siamo noi quindi questa è una cosa che non puoi comprare non è che dici ok compro che il mio idolo si tatua la mia faccia quindi sui social media queste cose sono potenti perché se tu la vedi ti assicuro non vi faccio vedere il video però qua siamo al sesto abbraccio di 20 nel video si abbracciano mille volte ti emoziona così tanto che tu lo condividi oppure tagli un amico questa è l'essenza dei social media suscitare emozioni oppure questo era un evento dal vivo dove avevano detto alla fine dell'ultimo minuto potete tirare in campo i peluche raccoglieremo i peluche per donarli agli ospedali tirateli ora cosa vuol dire tirare peluche vuol dire semplicemente dare un'opportunità a 20.000 persone che sono nello stadio di fare dei video che rappresentano il momento del lancio del peluche cioè il vero tema non è avere diciamo il peluche in sé ok ma avere un pretesto da dare a tutti noi che siamo sempre in cerca di contenuti cioè noi non è che se non ci pagano non parliamo dei brand noi se ci fanno vivere un'esperienza la raccontiamo quindi in questo caso ho fatto un'analisi in cui ho visto che 20.000 persone hanno pubblicato un video legato al teddy bear toss non tutto al stesso stadio viene fatto in tanti stadi e addirittura ho visto le statistiche delle squadre quando ho raccolto 10.000 peluche hanno provato a replicarlo anche a Roma con un risultato un po' più basso ma l'importante è provarci che solo provandoci ti rendi conto di cosa funziona e cosa no il record c'era questa squadra che ha raccolto quasi 35.000 peluche in una sola partita ma a me quello che mi interessa non è il peluche sì bellissimo ma la visibilità che ha avuto pensate a livello di earned media quante persone hanno poi visto sui social media i video di questi peluche attenti però anche alle cose da non fare troppi utilizzano i social media alla buona senza studiare purtroppo anche qualche agenzia vedo che fa cose un pochino strane guardate qua qua che succede questo è McDonald's cosa sta facendo una grafica carina dove però questo caffè passa da un quadrante all'altro tecnicamente quello è un carosello si sviluppa all'orizzontale solo che come creatività è bellissima attira l'attenzione perché dici wow che sta succedendo ma è contraria alle policy di Facebook Facebook dice che tu non puoi creare un video che riproduce alcune mie aree della piattaforma così come questa di Actimel che prende due post poi si rompe diventa un post unico o Nutella che prende i vasetti da un album e lo fa diventare un gioco ora come creatività sono pazzesche sono seguite da super agenzie peccato che stanno violando le policy della piattaforma qua stiamo facendo dei test con dei nostri clienti e ci appare proprio e la normativa dice che tu non puoi riprodurre alcune sessioni della piattaforma queste cose non si sanno ma se domani Facebook decide di penalizzare in maniera retroattiva tutte le pagine che hanno fatto queste cose avete distrutto un brand cioè quel brand quando pubblica un contenuto non verrà praticamente più visto quindi veramente l'errore classico che si fa sui social media è di gestire nel quotidiano cosa pubblico oggi qual è il tema di attualità di oggi questo ok faccio una foto e la pubblico no bisogna veramente studiare capire cosa si può fare e cosa no pubblicare meno spesso contenuti di qualità più alta oppure questa pubblicità di Iliad telefonica che idea vi dà una pubblicità del genere che impressione vi dà in diretta fastidiosissima ok ora non solo è fastidiosa potevano anche pensare che invece avrebbe fatto un effetto wow sicuramente esce fuori dal feed cioè rispetto a tante altre cattura l'attenzione ma non ne hanno moderato i commenti cioè nei commenti c'era gente con i simpson morti dannosa questa cosa l'epilessia inclusa nell'offerta cancellatela subito vi beccare qualche denuncia questa continuava ad andare in giro perché alcune realtà pianificano le pubblicità vuol dire che dicono adesso per una settimana andiamo in onda con questo contenuto senza però fare la gestione della pubblicità quindi controllare cosa succede la moderazione o l'ottimizzazione quindi cambiare in corsa questa pubblicità con un'altra per avere un maggior ritorno a parità di spesa ora vi porto su un terreno invece divertente una bellissima foto di Cristiano Ronaldo da piccolo con una pubblicità della Nike che diceva questo ragazzino già lo sapeva con il logino della Nike sapeva che sarebbe diventato un campione questa cosa è bellissima perché sui social bisogna sempre far vedere o i dietro le quinte o qualcosa di inusuale quindi quando la Nike ha tirato fuori una foto di Cristiano Ronaldo da piccolo io ho detto wow che figata addirittura Ronaldo l'ha rilanciata con scritto hashtag just do it senza dire che era un accordo commerciale tra le parti ma quello è un dettaglio il vero problema è che la rete non dimentica e quindi qualcuno ha tirato fuori un'altra foto dicendo questo ragazzo lo sapeva ancora meglio perché in realtà era Adidas c'è la foto originale non c'era la Nike la Nike ha zoomato un pochino e ci ha messo il suo flag quindi occhio perché la rete veramente non dimentica e secondo me fa più notizia questa che non la prima notizia della foto di Ronaldo vediamo qualche campagna un po' più cattiva adesso entro proprio nell'intimo qualcuno si è lasciato di recente nessuno a te ok ti può mettere vicino a lui pure si è lasciato da poco no allora se vi siete lasciati e vi siete lasciati non benissimo il periodo intorno a San Valentino potrebbe non essere la giornata migliore per voi quindi ci sono due realtà due zoo che hanno avuto un'idea dicendo noi budget per i social non ce l'abbiamo ma abbiamo gli animali inventiamoci una storia quindi se vi siete lasciati male potete il giorno di San Valentino dare il nome del vostro ex o della vostra ex a una vipera o a uno scarafaggio quindi potete decidere quale dei due scegliere in realtà sono due progetti di due zoo separati uno di Sydney e uno inglese e questa cosa era talmente divertente che è finita sulla maggior parte dei giornali del mondo anche perché il mondo dei giornali sta in parte morendo per come è composto oggi quindi dovranno resuscitare in maniera diversa gli auguro di farcela ma sono comunque degli ambienti giornali che hanno bisogno di notizie quindi quando voi gli manderete un comunicato stampa molto istituzionale molto statico che è palesemente una pubblicità loro non la riprenderanno se voi gli date una notizia del genere lo zoo permette di dare il nome alla vipera alla tua ex lo riprendono perché comunque i lottori ci cliccano quindi c'è il meccanismo che loro guadagnano con la pubblicità quindi questi due zoo hanno avuto grandissima visibilità in tutto il mondo semplicemente partendo da un'idea io sono quasi sicuro che l'idea di uno zoo è che l'altra ha seguito dopo un paio d'ore funziona sempre così ma segui dopo un paio d'ore se tu studi studi chi fa qualcosa di simile per questo non bisogna essere chiusi nel proprio ufficio vi racconto un altro aneddolo io organizzo tantissime cene aperte cene aperte vuol dire luoghi dove ci si può incontrare perché ogni giorno ricevo troppi messaggi ti vorrei vedere per un caffè per un consiglio eccetera per qualche anno ci ho provato poi ho visto che è assolutamente impossibile e quindi dico durante il giorno fatemi lavorare potete raggiungermi qualunque sera a cena pubblico le città in cui vado la gente può venire a cena perché vi racconto questa cosa perché un aneddolo che ho sentito da Harvard nel 2016 quando eravamo lì per quel progetto era che Mark Zuckerberg quando ha avuto l'idea di Facebook ha invitato cinque amici nella sua stanza per dirgli ho un'idea te la voglio raccontare vieni alle quattro nella mia stanza secondo voi di cinque amici quanti si sono presentati? due e con quei due poi hanno portato avanti l'idea di Facebook tre persone hanno perso l'opportunità di conoscere Facebook quando era solo un'idea semplicemente perché erano occupati perché la nostra quotidianità è troppo presa di impegni legati al lavoro quindi il consiglio è cercate ogni tanto di vedere qualcosa fuori e a cena tendenzialmente siamo tutti quasi liberi e abbiamo tutti molta fame almeno io quindi c'è sempre l'occasione di dire sì voglio venire a cena e quindi l'ho legata a questa slide solo per dire guardate chi è più bravo di voi cercate nuovi stimoli oppure in America funzionano molto le campagne uno contro l'altro sono un po' difficili da gestire e in questo caso ci sono Pepsi e Coca Cola che se ne danno di santa ragione ma anche Burger King e McDonald's ora che succede praticamente Burger King per lanciare la nuova app ha detto ti piacerebbe provare il nostro nuovo hamburger a un centesimo ma sta regalato sì lo potrai fare se sei in prossimità di uno dei 14.000 ristoranti di McDonald's cioè se loro si rendono conto che tu stai per entrare in un McDonald's ti appare la notifica tramite l'app stare in macchina ti offre un panino e in questa maniera gli levano gli utenti ora io queste cose ne vedo un po' e devo essere obiettivo io non credo che le persone risalgono macchine e vanno a Burger King non ci credo però è una notizia quindi i giornali la riprendono quindi la gente scopre che se hai l'app c'è il panino gratuito quindi la gente scarica l'app l'alternativa sarebbe pagare un sacco di soldi per dire per favore scarica l'app quindi sono tecniche carine state però attenti perché il secondo che risponde quando tirate in mezzo un concorrente ha sempre un vantaggio competitivo e in questo caso è un negozio qualunque di sushi in realtà fanno il delivery del sushi e dice il nostro sushi è così buono che anche la concorrenza viene a pranzo da noi hanno fatto la foto dall'ufficio della macchinetta del delivery della concorrenza dicendo vedi che alla fine mangiano le cose nostre il secondo che risponde non te la fa passare tanto liscia risponde no è il nostro di sushi che è così buono che anche la banca sotto di voi ordina pranzo da noi cioè la banca che è sotto da voi paga il delivery del concorrente perché non ce la fa più a mangiare il vostro sushi là non puoi più rispondere là non è che continui game over è finita così come gli amici della Roma ho fatto due anni con la Roma e tuttora siamo in buoni rapporti per le attività con alcuni sponsor come Linkam a un certo punto la Roma nota che qualche aquilotto in sala qualche laziale ok ok la Lazio fa un post in cui dice a te che ci hai donato l'onore di essere la tua prima squadra auguri caput mondi a cosa si riferisce Roma erano gli auguri per la città di Roma che non hanno voluto citare e quindi hanno chiamato caput mondi ora interviene il social minor manager della Roma dice tu non mi citi va bene 63 orizzontali la capitale d'Italia caput mondi hanno inserito caput mondi in tutti i luoghi dove doveva esserci Gabriele tu sei della Lazio no 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 sono confuso tu sei lo bacchiotto vero questa te la ricordi era una fake questa era una fake news ok ok caput mondi quindi praticamente su twitter tutti quanti hanno cominciato a dire ripetiamo se caput mondi piuttosto se nasce una bambina poi la chiameremo caput mondi caput mondi è la capitale d'Italia è diventato trending topic quindi tutti quanti parlano di questi temi ok quindi se utilizzate i social media in maniera ironica soprattutto rispondendo potete averne un grande vantaggio se volete cavalcare i temi di attualità quindi si definisce real time marketing quando cavalcato un tema di attualità fatelo se è solo veramente rilevante col vostro mondo ieri c'è stata un'enorme polemica l'altro ieri se l'avete sentita su taffo e il tema delle donne ok non dobbiamo cavalcare ogni giorno i temi se non sono rilevanti perché è evidente che se tu ogni giorno provi a ad esserci 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 prima o poi entri in un terreno che non è tuo e in tanti purtroppo personaggi molto importanti hanno criticato taffo taffo li conosco sono bravi eccetera però è evidente che non può essere una strategia in realtà marketing deve essere una ciliegina da mettere ogni tanto perché se no prima o poi qualcosa la sbagli ora ci sono dei casi in cui è evidente che il caso è molto coerente con il tuo tema avete sentito l'ultimo anno il concetto dei terrapiattisti quelli che sono convinti che la terra sia piatta un solo brand gli poteva rispondere uno e lo ha fatto in maniera geniale quando c'è chi ha il dubbio che la terra sia piatta ma la prova è sotto gli occhi la terra è piatta discorso chiuso risico ci siamo cresciuti tutti insieme sul tabellone risico quindi è vero la terra è veramente piatta quindi loro potevano farlo altri magari no la cosa bella è anche cercare di capire come provare a fare dei piccoli test imparandole a chi è più bravo di noi quindi in questo caso Gary V che lei giustamente prima ha riconosciuto fa tutta una serie di video in cui chiede di ricevere una domanda e lui li monta come domanda e risposta e poi la va a sottoritolare e l'ha fatto con tantissime persone questa cosa poi è diventata più avanzata quindi la domanda ha cominciato a mettere dentro un telefono io ovviamente non mi posso avvicinare in nessun modo a lui però provo a fare le test quindi ho cominciato a chiedere un po' di personaggi pubblici un po' di amici in questo caso era Serena Autieri mandami una domanda lei mi ha mandato una domanda e ho cominciato a rispondere ora questo a me è servito per capire anche la complessità per capire come si produce un contenuto dove tu devi mantenerti vuoto lo spazio della tua sinistra quindi provate a vedere chi è più bravo di voi ma impegnatevi a fare le test perché solo facendo le test imparete come migliorarlo non importa che questo video sia fatto bene oppure no l'importante è aver attivato tutta la macchina per fare le test un altro caso carino è che i social media dovrebbero essere utilizzati in maniera diciamo a due vie dovete attivare le community per rispondere tutti quanti a una causa perché semplicemente l'algoritmo di Facebook premia tutte quelle realtà che vanno a interagire quindi se io ti do un'informazione ogni giorno ti porto sul mio sito l'algoritmo non è contento perché stai portando minuti fuori della piattaforma se io ti tengo sulla piattaforma e ti faccio domande magari nelle Instagram stories quale sarebbe lo story mezzino cioè il tramezzino creato attraverso le stories loro ci hanno provato con tutta una serie di sondaggi su ciascun sondaggio dovevi decidere questo è Burger King ha fatto la stessa cosa col panino e dovevi in pratica alla fine decidere qual era il nuovo tramezzino con il pane bianco il pane integrale con il cotto alle erbe carciofi funghi salsa eccetera e alla fine hanno creato il primo prodotto realmente messo in commercio con gli ingredienti scelti dalle storie ok sembra una banalità ma mi piace la voglia di coinvolgere le community nelle scelte e questo è il risultato tramezzino follo menale vabbè poi si sono fatti prendere un po' la mano ok state attenti però quando copiate io ho detto di studiare non di copiare bisogna prendere ispirazione dagli altri qua c'è Burger King che sembra abbia rubato un contenuto di un artista questo artista aveva creato un panino e dentro il panino aveva taggato gli ingredienti quindi se cliccavi su lattuga piuttosto che pomodoro formaggio hamburger ci cliccavi finivi su un account che era solo sul mondo dei panini solo sul mondo dell'attuga era una cosa divertente invece che taggare gli amici tagghe gli ingredienti praticamente sembra che Burger King si sia ispirato a questa cosa lo abbia diciamo copiato senza citarlo e lui ha cominciato a taggare Burger King in tutta una serie di altri contenuti solo che questi contenuti erano diversi quindi praticamente Burger King si è trovata il suo feed di Instagram in realtà c'è una terza sezione che si controlla poco che è questa dove ti taggano e praticamente lui ha cominciato a taggare Burger King in tutte queste storie ricostruendo diciamo questa cosa che potete vedere soprattutto ha coinvolto i suoi fan a farlo quindi Burger King ha cominciato a essere taggato non vi dico dove cioè ovunque e solo perché hanno fatto arrabbiare un artista è continuata questa cosa in tutta una serie di stories ok ci possono essere anche delle soluzioni molto semplici per ottenere visibilità il famoso internet media visibilità extra in questo caso era a Bologna e ho visto gli addobbi natalizi con una canzone di Lucio Dalla ed è bellissima perché se voi leggete caro amico ti scrivo così mi distrago un po' dopo un po' non potete fare a meno di canticchiarla e vi verrà voglia anche di fare un video o una foto e pubblicarla l'ho analizzata e ho scoperto che in 85.000 hanno fatto dei post legati a Lucio Dalla ma tutti i post recenti su Lucio Dalla erano legati a quella strada di Bologna mi hanno raccontato quanta gente è andata a Bologna in quella strada in quel periodo veramente è stata una cosa incredibile questa cosa è positiva ma è anche negativa è positiva se la fate bene ma se a un certo punto mettete un errore di grammatica poi ho scritto così è scritto male non so se quanti lo sanno ma poi non si scrive così anche quello diventa un caso e poi finisce in rete poi scatta la polemica poi diventa politica e non la finisce più quindi state attenti esistono anche delle altre realtà come in questo caso degli hotel che hanno investito poco ma un po' hanno investito per diventare le famose mucche viole per diventare un hotel leggermente più particolare degli altri questo è il cioco hotel un hotel che se entrate è tutto a base di cioccolato quindi se andate nella stanza la stanza è tutta anche l'armadio è un enorme parete di cioccolato se la vedete quindi da una parte non è in base a questo che noi scegliamo l'hotel ma una volta dentro non potete fare a meno di fare dei contenuti chi di voi se fosse andato lì avrebbe fatto dei contenuti ok ogni vostro contenuto è pubblicità quindi loro hanno creato una macchina pubblicitaria non è un hotel è earned media continuativo ovviamente devono anche dirti qual è l'hashtag da utilizzare come geolocalizzarti tutta una serie di altre tecniche così come questo è un ristorante di sono partito da Roger Federer per diciamo farvi vedere qualcosa che anche attirasse la vostra attenzione vi sto portando su dei casi che invece potete copiare da mattina questo è un ristorante di Milano una pizzeria che utilizza le stories per far vedere alcune caratteristiche in questo caso stava preparando l'impasto al carbone molto particolare ad alta riggeribilità però in pratica faceva le domande hai già provato il nostro impasto al carbone quindi è la famosa logica della voglia di conversare e poi ti diceva ok se l'hai provato rispondi poi pubblicava le risposte sì fantastico e buonissimo super leggero ma metteva il tag alla persona quindi quella persona comunque otteneva della visibilità quindi poi altri volevano commentare per avere visibilità sul profilo del ristorante sì lo prendo sempre con il salmone ottimo impasto morbidissimo e non goffia ora se voi vedeste una pubblicità in metropolitana o su un giornale di una pizzeria che ti dice ho l'impasto al carbone vabbè interessante se vedete un vostro amico o qualcuno che dice non solo è buono l'ho anche provato lo suggerisco molto leggero passi da un concetto di pubblicità a un concetto di raccomandazione sociale te lo stanno consigliando i tuoi amici quindi sono tecniche super semplici ma che fanno veramente la differenza poi se si parla di Nutella fermati perché di qua pure hanno veramente fatto dei contenuti fantastici tutti quanti hanno commentato ok si può anche trovare il modo di conversare con dei partner in questo caso Netflix ha conversato con dei partner di altri paesi però l'ho visto fare anche a tantissime altre realtà squadre di calcio eccetera con i concorrenti prima delle partite di Champions qua Netflix Italia ricorda Netflix Francia che era un anniversario vi ricordate cosa è successo 13 giorni fa facciamo un rematch e li hanno invitati a giocare a forza 4 i francesi sono cascati in questa trappola e praticamente hanno cominciato a rispondere finché alla fine potete immaginare com'è finita gli italiani hanno vinto forse anche perché hanno messo la prima pedina che è abbastanza determinante e comunque qua hanno vinto entrambi perché in pratica hanno generato interazione sulla propria rete i follower si sono divertiti è finita anche in qualche rivista di settore digitale e la logica della collaborazione viene troppo spesso sottovalutata c'è un esempio nel campo dei musei si pensa che se tu vai a un museo non andrai ad un altro quindi ciascuno lavorerà solo poi a un certo punto i musei hanno capito che se tu alzi la domanda di cultura in tanti altri ci andranno quindi in questo caso hanno fatto 20 musei un accordo è nato sui social uno comincerà a dire mamma sono pronta a conquistare il mondo questo era una paperella e tanti altri hanno cominciato a rispondere ehi questa pure è una paperella del 1300 prima di Cristo poi arriva il Louvre arriva tardi tant'è vero che si scusa meglio tardi che mai questa è la nostra più dolce più carina e quindi tutti quanti hanno ottenuto visibilità ne ho viste altri dove hanno fatto una diretta Facebook alternandosi tutti i musei che avevano almeno un quadro di Van Gogh tanto se io vado a vedere Van Gogh a Amsterdam poi magari ci vado anche a New York quindi fare sistema aiuta tutti in questo mondo le social media ok direi che vale in chiusura dovete semplicemente capire da che parte dei social volete stare quelli che lo utilizzano in maniera seria o quelli che lo utilizzano tanto per farlo ma non avranno mai ritorno qua KLM l'ho analizzato dopo che ho preso un loro volo nel loro volo l'hostess ha proprio detto se avete qualunque problema in questo volo quando atterrate twittate come twittate? sì vi risponderemo nella cover su Twitter nell'immagine su Twitter c'era addirittura scritto in media ogni quanti minuti rispondono hai problemi e questa cover da qualche anno è aggiornata ogni cinque minuti cioè c'è un automatismo perché ogni cinque minuti aggiornano la cover questa vuol dire grande delizione cioè mi fai vedere che tu ci tieni da morire e così come Erdolomiti in realtà dice guarda informazione importante il 31 dicembre io sto partendo dal primo il primo gennaio il 6 non ci sarà nessuno dal 2 al 5 ci saremo dalle 8 alle 8 mentre voi ci sono ogni minuto quindi occhio a utilizzare i social media in questa maniera perché stai dichiarando che non sei pronto ad utilizzare i social media e così come questo ristorante bio fa questa pubblicità pizza bio gratis il giovedì venerdì e sabato sembra follia poi tutta una serie di emoji cuoricini e cose un po poco rilevanti peccato che nei commenti dicono ricordo solo che sono state su cucine da incubo un motivo ci sarà e piuttosto si mangia male si scorda di servire i tavoli ti credo fanno queste offerte fa schifo non ci andate le recensioni su tipo avviso sono imbarazzanti finché il proprietario o chi per lui inizia a rispondere va bene dai facciamo così chi sta bene riviene chi è sorito si sfoga su internet decida lei oppure facciamo così venite se state male non pagate invece di leggere gli insauriti quindi questo è evidente che uno che ha detto ah magari un junior gestisci i miei social metti due emoji metti due offerte non controllare le recensioni ed è un attimo che ti distruggi questa addirittura è stata promossa a livello pubblicitario quindi c'era tanta visibilità dietro anche i grandi sbagliano questa è la Quatar Airways linea aerea che aveva un concorso per andare a vincere la partita della Roma il problema è che la Roma aveva perso 7 a 1 noi abbiamo una procedura con i clienti che quando succede qualcosa di grave per esempio casca un pilota della superbike premiamo un pulsante rosso dove si azzerano tutte le comunicazioni che devono uscire non può tenere un concorso attivo mentre c'è un problema di questo genere così come posso solo parlare bene della Roma ma qua secondo me hanno sbagliato perché hanno pubblicato il giorno in cui la Roma vinse lo scudetto con il gol di Totti senza pensare che era lo stesso giorno in cui Totti stava facendo la conferenza stampa dicendo che andava via dalla Roma quindi potete immaginare cosa sia successo noi abbiamo organizzato il concorso con l'Incamp per l'addio al calcio di Totti dove potevi incontrarlo conoscerlo il giorno della partita queste sono attività molto complesse non fate concorsi senza la parte burocratica che è un po' complessa perché le multe che rischiate sono da 50.000 euro a 500.000 euro quindi occhio che non si sa voi magari seguite qualche influencer qualcuno che vi dice facciamo un giveaway regalo un rossetto eccetera non si possono fare queste cose se non regolamentate va bene io potrei andare avanti su altre cose ma il tempo credo sia esaurito chiedo un segnale alla regia vi faccio vedere magari solo un'ultima cosa carina ah per esempio questo è un video che devo ancora pubblicare l'abbiamo fatto con Heinz Beck qua alla pergola e Heinz ha voluto per esempio premiare i suoi follower più attivi ma in maniera retroattiva non è addetto fate casino sui social interagite premierò quello che fa più commenti come fanno in tanti lui ha detto Luca c'è un modo di sapere chi ha interagito di più con la pagina abbiamo chiamato un amico di Ninjalytics che ha un software fichissimo e lui ha invitato alla pergola le persone che nell'ultimo anno hanno interagito di più e quindi gli ha fatto un regale inaspettato non gli ha prima detto fate qualcosa per me poi vi premio ma le ha premiati senza che loro si aspettassero niente questo è un approccio vincente perché vi fa capire che vi dà qualcosa senza aspettarsi niente in cambio e questo invece abbiamo fatto il lancio di Spiderman a Venezia tutta un'attività social complicatissima perché era il giorno in cui Facebook Instagram e Whatsapp erano down piuttosto che altre attività con la RAI che non se volete poi ve le racconterò alla prossima occasione se state guardando questa registrazione siete qua in sala il consiglio che vi do è cercatemi al volo Luca Lamesa su Instagram LinkedIn Facebook dove volete su Facebook meglio profilo personale piuttosto che la pagina e mandatemi un messaggio adesso dicendo Tutore di Roma 3 perché questa cosa è importante è un'altra metodologia che utilizzo spesso perché se voi lo fate quando tra una settimana un mese o tra un anno mi chiederete un consiglio io il primo controllo che farò è se avete partecipato a qualche mia reazione in precedenza avete visto che è la prima cosa che vi ho chiesto quando sono entrato perché almeno saprò che abbiamo fatto questi 50 minuti insieme ed è anche una tecnica per entrare in contatto con voi e anche se io poi vi rispondo l'algoritmo di Facebook fare in modo che ciascuno veda il contenuto dell'altra parte per cui iniziano ad arrivare un po' di messaggi mi trovate facilmente meglio su Facebook meglio sul profilo personale quello che c'ha che possiate aggiungere gli amici ok che è questo quindi mi trovate così con questa cover e questa immagine perfetto io spero vi sia piaciuto ringrazio gli amici di Tutore dell'Invito vengo sempre con piacere non vado a tanti eventi di questo tipo perché il tempo manca ma Tutore se lo merita per cui sono super felice dell'invito ok vi ringrazio e a prestissimo ciao grazie 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 grazie